Neve in arrivo per l'Abruzzo, la notizia ormai è stata diffusa da esperti meteoistituzioni che hanno già organizzato la macchina amministrativa per garantire la percorribilità delle strade in tutta la regione. La provincia di Pescara ha già iniziato con i mezzi spargisale. Nell'entroterra, oltre alla neve, l'attenzione è concentrata sulla formazione di ghiaccio e in città prosegue la potatura degli alberi per evitare danni a persone e cose. Abbiamo le risorse non solo come provincia di Pescara ma tutte e quattro le province d'Abruzzo altrimenti avremmo avuto difficoltà a programmare ogni tipo di intervento utile. Abbiamo avviato una concertazione con gli operatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse sono 28 gli operatori individuati dalla provincia di Pescara. Abbiamo 10 nostri cantonieri già pronti a intervenire sulla viabilità e quattro mezzi della provincia che sono appunto funzionali alle operazioni di sgombero neve e comunque di pronto intervento. Accanto a questo abbiamo chiaramente un deposito di sale a disposizione abbastanza consistente più di 170 tonnellate di sale disponibile e abbiamo allertato anche i colleghi sindaci perché laddove ci saranno delle precarietà saranno anche loro a collaborare con la provincia segnalando ecco in base al piano neve che abbiamo predisposto tutte quelle che saranno diciamo le eventualità che possono arrecare qualche difficoltà in qualche tratto di strada provinciale che chiaramente porta ai comuni della provincia stessa. Pronti anche i consigli delle associazioni ambientaliste che rivolgono un appello ai cittadini ricordando che con il depositarsi della neve diventa impossibile il reperimento di cibo e acqua per molte specie. L'invito è quello di lasciare piccole mangiatoie su balconi e terrazzi anche in zone riparate. Appello anche dalla Ruzzoreti di Teramo che spiega come adottare accorgimenti utili a non interrompere il servizio idrico in casa, coibentare i contatori e se necessario procedere a riscaldarli con FON e diffondendo per chi ne avesse bisogno un numero verde per le emergenze, l'800 064 644. Il comune di Chieti ha dedicato una pagina nel sito ufficiale dell'ente con i consigli per affrontare la neve, avendo disposto già da tre mesi il piano e dando priorità alle grandi arterie della viabilità per garantire il raggiungimento delle scuole. Uomini e mezzi per rimuovere la neve saranno garantiti senza limiti per evitare difficoltà. Importante è anche l'azione del governo regionale che ha destinato somme alle amministrazioni per poter affrontare l'emergenza.